Teatro Politeama nominati due nuovi consiglieri Beatrice Magnolchi in pole position per la carica di presidente Alicea Copernico mezza classe si diploma con massimo dei voti, sogni e speranze dei magnifici nove Bando affitto a Covid-19 pubblicata la graduatoria definitiva accolte 606 domande Ilo Labortiva la Toscana autorizza la prescrizione in ambulatorio il movimento per la vita contro la delibera della Giunta Rossi Una buona giornata ben trovata un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato Beatrice Magnolchi in pole position per la carica di presidente del Teatro Politeama e intanto ieri l'Assemblea dei Soci ha ratificato l'ingresso di due nuovi consiglieri nel CDA vediamo Elvira Trentini e Giancarlo Calamai entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione del Teatro Politeama la ratifica dei due nuovi consiglieri avvenuta al termine dell'Assemblea dei Soci che si è tenuta ieri Trentini e Calamai prendono il posto dell'ex presidente membro del CDA Maurizio Nardi che si è dimesso in seguito alle divergenze con il Comune di Prato e di Luca Santi anche lui di missionario nuova nomina anche per il Collegio dei Revisori in cui entra a far parte Filippo Ravone presidente dell'Ordine dei Commercialisti l'Assemblea dei Soci ha approvato inoltre il bilancio consuntivo 2019 con una perdita di circa 25.000 euro già coperta dagli accantonamenti esistenti l'Assemblea del Politeama tornerà a riunirsi giovedì 9 luglio per le due nomine pubbliche che fanno riferimento al Comune alla provincia di Prato e la conseguente nomina del nuovo presidente del Teatro in pole position c'è Beatrice Magnolfi ex parlamentare del Partito Democratico il cui mandato come presidente della Fondazione Toscana Spettacolo si avvia alla scadenza tra i primi atti del nuovo Consiglio di Amministrazione ci sarà l'individuazione di un direttore artistico o di una figura tecnica che possa occuparsi della programmazione della nuova stagione teatrale la prima senza Roberta Betti per anni anima presidente factotum del Teatro Politeama sarà ovviamente difficile prendere le redini del Teatro Politeama dopo 25 anni di presidenza di Roberta Betti ma sarà compito del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo presidente o della nuova presidente decidere innanzitutto come organizzare il teatro penso sia questo l'elemento fondamentale perché la presidente Betti era in grado di riunire su di sé le funzioni sia di presidente ma anche di direttore artistico alla fine del teatro credo che il Consiglio dovrà comunque prendere in esame almeno questo è quello che ci viene detto dal Consiglio stesso l'idea di indicare comunque una struttura diversa a sostegno di sicuro l'impegno del Comune della provincia e di tutti i soci è quello di continuare a stare vicino al teatro a partire dalle nomine che dovranno essere almeno all'altezza del Consiglio esistente ecco questo sì I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 10 in Viale Leonardo da Vinci subito dopo il Pontelama per spegnere l'incendio che ha interessato un furgone il veicolo è stato accostato al bordo della strada dal conducente appena questo si è accorto che qualcosa non andava per poi allontanarsi in attesa dell'arrivo dei soccorsi sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale il traffico lungo la declassata ha subito rallentamenti per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio che ha distrutto il furgone a liceo Copernico mezza classe si è diplomata con il massimo dei voti le difficoltà legate al coronavirus e ad una maturità anomala non hanno fermato i 9 studenti capaci di arrivare al 100 e al 100 e l'ode 700 e 200 e l'ode è lo straordinario risultato che hanno raggiunto 9 ragazze appena diplomati della quinta AL del liceo linguistico Copernico in pratica mezza classe ovvero 9 su 20 ha ottenuto il massimo dei voti un caso più unico che è raro arrivato peraltro nell'anno in cui la maturità è stata rivoluzionata dal covid e i ragazzi hanno trascorso l'ultima parte dell'anno scolastico lontani dai banchi abbiamo affrontato le lezioni online una preparazione fatta esclusivamente online che come è detto appunto è stata una preparazione assolutamente anomala e che ha richiesto comunque altrettanto impegno come se fossimo stati in classe appunto siamo riusciti a arrivare alla maturità comunque tranquillissimi senza alcuna ansia perché appunto il lavoro svolto con i professori durante la didattica a distanza è stato svolto in una maniera completamente organizzata e tranquilla quindi siamo stati un'ora a parlare con la mascherina inizialmente diciamo è stato un po' complicato però diciamo la mascherina è stato l'ultimo dei nostri problemi in questo punto non ci speravo durante il lockdown c'è stata tante incertezze quindi è stato diciamo anche un premio personale a diciamo i miei sforzi durante la quarantena è stato molto difficile in questi tre mesi preparare un esame via diciamo in modo telematico quindi a distanza con la mancanza anche del contatto non solo tra di noi ragazzi anche semplicemente per un sostegno ma anche con i professori adesso dopo cinque anni passati insieme le loro strade si divideranno quasi tutti hanno le idee chiare su quale facoltà scegliere all'università qualcuno pensa all'estero qualcun altro allo spazio tutti sempre ci si chiede cosa voglio fare da grande io ancora di preciso non lo so però voglio fare un anno all'estero in America un'esperienza formativa mia personale studio di più velino da 10 anni quindi conorrerò il mio sogno andando al conservatorio si spera quindi sto tentando di fare un'ammissione sia a Lucca che a Fiesole sperando che almeno un conservatorio venga presa io invece attendo il 16 luglio per appunto il test di ammissione alla Carlo Bo che sarebbe la scuola per mediatori linguistici a Firenze perché ho sempre voluto lavorare nel mondo delle lingue sono sempre stato il mio sogno fin da piccola io sono sempre stato attirato dallo spazio e quindi vorrei fare astrofisica magari all'università e poi andare magari a lavorare alla ESA oppure alla NASA è stata pubblicata sul sito del Comune di Prato la graduatoria definitiva del contributo straordinario affitto Covid-19 dopo il reesame dei ricorsi presentati in seguito alla graduatoria provvisoria sono 606 le domande accolte finanziate con 246 mila euro resi disponibili dal Fondo per l'amorosità incolpevole Fondo Statale erogato tramite la Regione Toscana e ulteriori 250 mila euro del bilancio del Comune di Prato per l'aiuto alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di affitto in seguito all'emergenza Covid-19 il Comune di Prato sta reperendo ulteriori risorse per poter scorrere ancora la graduatoria in modo da aumentare le domande ammesse al contributo a breve inoltre probabilmente nel mese di luglio sarà pubblicato il nuovo bando per il contributo affitto ordinario Pillola abortiva anche negli ambulatori il Movimento per la Vita boccia la delibera della Giunta Rossi e difende il lavoro dei centri di aiuto alla vita presenti in Toscana ce ne parla Giulia Ghizzani il giudizio il giudizio su questa delibera è molto molto severo sia perché ripeto c'è un fattore ingannatorio che riguarda la pillola RU486 sia perché il luogo adeguato per fare gli aborti con la RU486 non è certo l'ambulatorio pubblico tanto meno tanto tanto meno il consultorio avrebbe per sua natura tutt'altra funzione La pillola abortiva in Toscana potrà essere presto somministrata anche all'interno degli ambulatori pubblici adeguatamente attrezzati e funzionalmente collegati agli ospedali lo ha stabilito la Giunta regionale che dopo aver adottato per prima la pratica dell'aborto farmacologico con la cosiddetta RU486 adesso sarà anche la prima regione italiana a rendere disponibile questa pratica negli ambulatori autorizzati una scelta che viene bocciata su tutti i fronti dalla Presidente nazionale del Movimento per la Vita Marina Casini è falso il ritornello che viene ripetuto per cui questo prodotto tutela la salute della donna e elimina la sofferenza dell'aborto non è così volerla inserire negli ambulatori è un fatto particolarmente grave è vero che la legge lo dice la legge dice che l'aborto può essere fatto anche in ambulatori ma stiamo parlando dell'aborto chirurgico cosiddetto tradizionale che è diverso nel metodo dell'aborto farmacologico che è quello appunto della pillola RU486 c'è una differenza fondamentale che ha sottolineato anche l'AIFA in una determina del 2009 l'aborto chirurgico diciamo agisce determinando contestualmente la morte del bambino e la sua espulsione invece la pillola RU486 distingue due momenti e fa intercorrere non per nulla due giorni di tempo tra il dato delle contrazioni il dato diciamo così dire uccisivo e il fatto espulsivo di qui secondo Casini la necessità che l'intero percorso avvenga sotto sorveglianza medica e non come prevede il protocollo regionale in modo frazionato e per step non in regime di ricovero ma la Presidente solleva anche dubbi riguardo al ruolo dei consultori in questo processo allora il consultorio pubblico istituito con la legge 405 del 75 non è nato per essere un organo distributore di morte ma è nato esattamente per il motivo opposto essere un organismo che lo Stato mette a disposizione delle famiglie non per nulla si chiamano consultori familiari quindi delle famiglie ma anche dei singoli che comunque vivono in un contesto familiare affinché venga tutelata la vita e la salute un modello per le istituzioni conclude Casini restano i centri di aiuto alla vita di tutta Italia in Toscana se ne contano 17 tra cui anche a Prato impegnati a tutelare la vita di madre e figlio durante l'intera gravidanza continua con successo il Caffè Letterario l'iniziativa culturale promossa dal comune di Montemurlo con l'associazione Il villaggio il prossimo appuntamento da mettere in agenda è per domani alle 21.15 al Parco di Villa Giamari con la presentazione del libro Give Back di Irene Sanesi come si promuove con successo una raccolta di fondi quali sono le norme le regole gli accorgimenti tecnici e strategici per intercettare i partner ideali incrementare la propria reputazione ottenere ciò che si propone Give Back è un manuale concreto il primo dedicato esplicitamente al settore culturale a intervistare Irene Sanesi sarà presente il direttore di TV Prato Gianni Rossi per partecipare obbligatoria alla prenotazione lutto nel mondo delle arti marziali della palla grossa lunedì sera a soli 44 anni è deceduto Gianmarco Moretti personal trainer istruttore di autodifesa e di arti marziali e calciante dei rossi di Santa Trinita originario di Campi Bisenzi ma molto conosciuto anche a Prato Moretti è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in un pub con gli amici pronto l'intervento dell'ambulanza che lo ha portato all'ospedale ma purtroppo per l'uomo non c'è stato niente da fare Moretti che non era sposato e non aveva figli lavorava alla palestra della Polisportiva Action ed era stato il personal trainer di varie star della TV e del cinema una fra tutte Elisabetta Canalis e passiamo adesso al calcio Prato scatenato sul mercato non c'è solo brega per l'attacco ce ne parla Massimiliano Masi Sarà nuovamente la squadra da battere il Prato nella prossima stagione se fosse ancora in seredì come appare assai probabile vorrà recitare il ruolo della grande favorita per la vittoria finale la dirigenza laniera con in testa il presidente Paolo Toccafondi sta infatti lavorando alle conferme dei migliori giocatori della scorsa stagione e contemporaneamente è alla caccia di giocatori che possono fare la differenza partiamo dagli obiettivi di mercato con il primo quel Cristian Carlo Brega oggetto del desiderio da almeno un anno del Prato la trattativa va avanti e in settimana ci sarà un nuovo incontro fra il Prato e l'entourage del giocatore la sensazione è che l'accordo non sia lontano filtra ottimismo perché si possa vedere il bomber via Reggino in maglia laniera ma il possibile arrivo di Brega non esclude altri arrivi nel reparto offensivo il Prato mira a mettergli accanto oltre a confermato Marco Cellini un altro attaccante di grande livello e la rosa al momento sembra ristretta a tre nomi di assoluto livello per la categoria che rispondono ai nomi di Francesco Virdis classe 85 quest'anno alla latte e dolce e con le migliori stagioni alle spalle con la maglia del Savona quindi l'ex bianco-azzurro Riccardo Moreo quest'anno fra Monopoli e Cosenza ed infine Brian Joè dell'Arezzo ma nato e cresciuto in Toscana forse il vero obiettivo del Prato passando al resto della squadra ecco che pare certo che non si vedranno più in bianco-azzurro i difensori Giorgio Diana e Claudio Shannamè tra l'altro ad un passo dall'accordo con il Prato 2000 i centrocampisti Ludovico Gargiulo e Francesco Mariani e gli attaccanti Flanchi Nakamadu Pablo Ezequiel Banegas Mohamed Fofanà e Jacopo Fanucchi da valutare poi il futuro di Juan Ignazio Surraco a centrocampo arriverà un mediano fisicamente strutturato di grande livello che il Prato avrebbe già individuato ma sul quale vige il più assoluto riservo per quanto riguarda le quote per il 99 conferme per Bassano Marini e D'Astaroba da valutare la posizione di Toccafondi per il 2000 conferme per Cecchi Carli e Quassi per il 2001 in arrivo Calosi dal Grassina e Bertolini dalla primavera dell'Empoli oltre al confermato Casati per il 2002 conferme per il portiere Piretro per Noferi e Del Greco dalla Juniores mentre dalla Fiorentina si punta sul portiere Alex Nannelli insomma un Prato avanti tutta desideroso di costruire una vera e propria corazzà per la Serie D obiettivo è vincere E passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma Un saluto dalla Sala Meta del Consorzio Lamma ecco le immagini della Satellite che mostrano ancora l'alta pressione che caratterizza buona parte del Mediterraneo e che assicura giornate stabili e soleggiate sulla nostra regione sia per quanto riguarda il resto della giornata di oggi mercoledì che per domani giovedì prevalenza di bel tempo sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione temperature né valori massimi fino a circa 32-34 gradi nelle pianure dell'interno concludo ricordando che da oggi alle 12 è online il nuovo sito del Consorzio Lamma nuove funzionalità e una migliore navigabilità anche dai dispositivi mobili con questo è tutto grazie grazie dell'attenzione e questa era l'ultima notizia il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30 vi ricordiamo inoltre alle 17.30 in diretta dal Duomo trasmetteremo la recita del rosario a seguire la celebrazione della messa grazie per averci seguito e arrivederci